Musica Da domani anche nell'isola le nuove limitazioni per apertura e spostamenti. La Sardegna paga l'addio alla zona gialla, pur con un indice RT inferiore a 1, ma si teme il peggioramento di altri parametri. Lo conferma anche il Tar Sardegna. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso del governo contro l'ordinanza del presidente Solinas, che richiedeva un patentino di immunità al Covid per gli arrivi nell'isola. Lo scorso anno quasi 55.000 famiglie hanno beneficiato della misura erogata dall'Inps. Il sostegno economico si aggira sui 530 euro, confermando il trend in crescita anche per il 2021. Riparte il campionato per i ragazzi allenati dal mister Alessandro Agostini, ex terzino del Cagliari, dopo i mesi di sosta per il Covid. Domani il rosso-blu sono attesi a Bergamo alle 10.30 per la sfida contro l'Atalanta. Musica Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con le informazioni di Telecosta Smeralda. Allora l'avete sentito, il ministro della Salute, Roberto Speranza, riporta la Sardegna in zona arancione. Questo vuol dire che da domani scatteranno le nuove limitazioni in base ai dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. La regione però non ci sta, il presidente Solina si è impegnato a Sassari proprio per inaugurare nuovi posti letto in terapia intensiva, preme per una retromarcia del governo. Era nell'aria che l'isola fosse ad alto rischio, restrizioni dunque già lo si sapeva. Il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità non ha fatto che confermare i timori di queste ultime settimane che davano la Sardegna in peggioramento rispetto all'andamento del resto d'Italia. E' a nulle valso l'indice RT pari a 0,95, cioè al di sotto di quella soglia che fa scattare le fasce semaforiche. A sfavore hanno giocato i dati di mercoledì scorso relativi alla settimana dall'11 al 17 gennaio. Il report del Ministero infatti ha rilevato non solo la tendenza all'aumento dei contagi, ma anche la previsione dell'incremento dei ricoveri nelle terapie intensive e altri parametri negativi come l'esplosione di focolai in strutture di residenza assistenziale per anziani che hanno emesso la sentenza di ritorno alla zona arancione per contenere l'epidemia di Covid-19. Con la nuova stretta perciò rientrano in vigore divieti e limitazioni. Le prime concrete certezze si hanno riguardo allo stop agli spostamenti tra le regioni e la chiusura ancora di ristoranti e bar che potranno continuare a lavorare almeno per le prossime due settimane solo con l'asporto o eventualmente con il domicilio. Permane anche il divieto di circolare fuori dal comune, eccezione fatta per le solite motivazioni di urgenza e necessità, è fatta a salva la possibilità per quei centri con meno di 5.000 abitanti e comunque nel raggio di 30 chilometri ma non verso i capologhi di provincia. Si profila inoltre la prosecuzione del divieto di ospitare più di due persone a casa, tre amici e parenti, come da ultimo di PCM. Confermato ovviamente il coprifuoco che scatta sempre, a prescindere dal colore della zona, dalle 22 e fino alle 5. Il paradosso di oggi, mentre inauguriamo nuove posti letto di terapia intensiva, ben 30, ne abbiamo 14 pronti albinaghi, ci giunge notizia che il Ministero abbiautato per far passare la regione in zona arancione per un superamento della percentuale di ricoveri sui posti letto di terapia intensiva. Noi riteniamo che quel calcolo sia sbagliato, dietro questi colori ci sono persone, ci sono attività economiche produttive, abbiamo già cominciato a manifestare da ieri alla struttura del Ministero e allo stesso Ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta. Speriamo che ci sia nella giornata di oggi una rettifica di questa attribuzione, diversamente dovremo tutelare in altre sedi le ragioni della nostra Sardegna. Noi speriamo di non dover fare ricorsi e che il buonsenso prevalga, perché oggi abbiamo tutti gli indicatori che consentono di tenere la Sardegna in zona gialla e consentono al nostro sistema economico produttivo di continuare il suo lavoro durissimo, già messo veramente sotto stress da queste settimane e questi mesi di pandemia. E questo declassamento rischia di far crollare definitivamente bar, locali, pizzerie e ristoranti. La Confcommercio addirittura non esclude azioni legali, allora Eleonora Bullegas ha sentito per noi il Presidente della FIP. Vediamo. Noi ci svegliamo stamattina come se abbiamo avuto un ladro in casa, troviamo tutto quanto fuori luogo, non sappiamo cosa fare, sappiamo che dentro i nostri frighi ci sono tutte le nostre merci pronte per fare una domenica, è assurdo dover lavorare in questo modo, è assurdo che ci venga tolta la dignità del nostro lavoro. Siamo stati i primi che hanno chiuso, siamo stati i primi a utilizzare i protocolli, siamo stati i primi che quando ci è stato detto aprite, scendete in piazza, non l'abbiamo fatto per giustizia e per dignità e oggi veniamo trattati in questo modo. Come si può fare a lavorare in questo modo? Tra l'altro parebbe pure che i dati sono sbagliati, fino a ieri dovevamo essere zona bianca, ora veniamo lanciati in zona arancione, zone come la Lombardia che dovevano essere zone rosse e diventano zone arancioni, ma come si può lavorare in questo modo? Ma vi chiedo pure a voi come è possibile essere un cittadino italiano in questa fase? Come si può ora ricorrere al buonsenso? Ora siamo in una condizione in cui dobbiamo dire ai nostri lavoratori domani stai a casa per due settimane, com'è possibile lavorare? Non ci sono gli stori, sei in ritardo in qualunque tipo di aiuto alle aziende, come si può essere Italia oggi? Io non so veramente cosa dire, ci chiamano veramente in tanti, stiamo ragionando su un'azione legale perché siamo alla fine, o si fa un'azione legale oppure si scende in piazza, in piazza non scendiamo perché sappiamo cosa significa scendere oggi in piazza, ma obiettivamente cosa possiamo fare? Stare fermi, è impossibile questa situazione, dove poi ci si dice sì tranquilli, poi vedremo e teniamo duro, ma teniamo duro cosa? È una situazione paradossale davvero, credetemi, mettetevi nelle condizioni di un padre di famiglia che domani deve aprire la propria azienda, che non sa cosa può fare, tra l'altro non sa cosa fare della propria merce, tra l'altro non sa cosa dire ai propri dipendenti, sappiamo tutti poi una filiera che si completa con il nostro lavoro, quindi non siamo solo noi, stiamo parlando dei produttori, stiamo parlando dell'agricoltore, stiamo parlando un po' di tutto il sistema. Ora, qual è la soluzione? Aspettiamo solo che ce la vengano a dire. Chiaramente abbiamo chiesto a tutti i nostri organi di convocarci, di sentirci, di preparare comunque un'azione da fare sul territorio perché siamo veramente al limite. E sulle misure proposte dalla Regione per contenere proprio la diffusione da Covid-19, la prima sezione del Tar Sardegna, presiduta da Dante D'Alessio, ha colto il ricorso del Governo contro l'ordinanza del Presidente della Regione, Cristian Solinas, dell'11 settembre scorso, con cui si prevedevano test di negatività al Covid per i passeggeri in arrivo nell'isola. In sostanza, in base alla sentenza dei giudici amministrativi, le Regioni non possono limitare la libera circolazione delle persone e eventuali restrizioni infatti possono essere stabilite solo con il DPCM e in condizioni di urgenza straordinarie, in modo adeguato e proporzionale rispetto al rischio pandemico. Il Tribunale ha quindi ritenuto valide le motivazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute che avevano proprio chiesto l'annullamento del provvedimento della Regione con il quale si stabilivano ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione del Covid-19. Adesso parliamo invece dei lavoratori ex-Alcoa perché se il Governo non dovesse trovare una soluzione immediata per rinnovare ma anche per aumentare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori appunto dello stabilimento di Portovesma allora potrebbero esserci davvero guai se risentiamo Antonello Lai. Una vera e propria emergenza sociale è quella che si profilerebbe se il Governo non troverà una soluzione immediata per rinnovare e aumentare gli ammortizzatori sociali per l'ex-Alcoa perché come affermano i sindacati in particolar modo la Wilm per voce del segretario Renato Tocco con una decurtazione dell'assegno di mobilità in tanti si troverebbero con un contributo ben al di sotto della storia di povertà cioè circa 400 euro. Aspettano risposte da Roma anche la FIOM CGL che attraverso le dichiarazioni del segretario regionale Roberto Forresu chiede certezze perché i tempi si starebbero ulteriormente allungando per avere risposte concrete. L'emergenza tra l'altro è stata al centro dell'incontro in videoconferenza che si è svolta ieri mattina tra l'assessora al lavoro Alessandra Zedda i metalmeccanici e le segreterie regionali confederali e i sindacati. Purtroppo si assiste ad una fase di stallo non essendoci nessuna data per il rinnovo delle misure e resta incerto anche l'importo che spetterà agli operai allora quando verrà rinnovata la mobilità. Ai nostri microfoni l'assessore al lavoro Alessandra Zedda. L'avvertenza per la parte industriale si è fermata a causa Covid ma l'assessore Pili sta lavorando per riaprirla immediatamente. Per quanto riguarda invece il ristoro che deve essere dato un attantum ai lavoratori ogni giorno si sta lavorando per cercare intanto di ricomprenderli tutti è stato proprio oggi riaperto il bando per chi ha avuto difficoltà nel presentare la domanda e poi dopodiché si procederà alle istruttorie per il pagamento di coloro che hanno già presentato invece la domanda. Ci rendiamo conto che i tempi si sono un po' allungati ma si sono allungati per tutti quest'anno con le difficoltà ovviamente del Covid e anche le condizioni cito tra tutte lo smart working della regione Sardegna. E ha provveduto anche delle nuove povertà con ricadute economiche e sociali l'Inps ha pubblicato il report sul reddito e sulla pensione di cittadinanza a dicembre del 2020 in Sardegna pensate da aprile ne hanno potuto beneficiare oltre 60.000 nuclei familiari dettagli in questo servizio di Cinzia Isola. Crescono di oltre il 20% le persone che in Sardegna nel 2020 hanno beneficiato del reddito della pensione di cittadinanza rispetto all'anno precedente e quanto emerge dei dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale dell'Inps in riferimento al periodo compreso tra aprile 2019 e dicembre 2020. A livello nazionale al mese di dicembre 2020 si registrano 1,25 milioni di nuclei familiari beneficiari con 2,9 milioni di persone coinvolte per un incremento del 3,3% sul mese precedente. L'importo medio corrisposto ammonta in media 528 euro. Il 61% dei nuclei percettori con il 65% delle persone coinvolte risiede al sud o nelle isole con un importo medio superiore del 7% sulla media nazionale. La media dell'importo erogato per il reddito di cittadinanza è di 573 euro mentre quello per la pensione di cittadinanza è di 253 euro. Nel 34% dei nuclei beneficiari è presente almeno un minore con un importo medio mensile di 647 euro mentre nel 17% dei nuclei è presente almeno un disabile e l'importo medio percepito di 518 euro. Solo il 15% dei nuclei percepisce un importo medio superiore a 800 euro mensili. Anche in Sardegna si conferma un trend in crescita. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza nel 2020 ne hanno beneficiato quasi 55.000 famiglie che in media hanno potuto contare su un sostegno economico mensile di 530 euro. Sono stati invece oltre 5.800 i nuclei familiari che hanno percepito la pensione di cittadinanza e un assegno mensile in media che supera di poco i 250 euro. Risorse di cui complessivamente hanno potuto beneficiare oltre 60.000 nuclei familiari. Adesso qualche comunicato commerciale vi aspetto dopo la pubblicità per la seconda parte del nostro telegiornale. Torniamo in studio parliamo appunto di lavoratori autonomi perché oggi sarà pubblicato l'avviso a Sportello per la concessione di un'indenità una tantum per gli operatori della fiera turistica e del commercio. Nel corso dell'ultima seduta infatti la giunta regionale su proposta dell'assessore del lavoro Alessandra Zedda ha approvato la delibera che integra il bando precedente ampliando anche la platea dei beneficiari. Infatti il presidente della regione Cristian Solina ha sentito a precisare che nessuno è stato escluso. L'intento ha sottolineato in una nota è quello di rendere tutti i partecipi per porre le basi della ripresa economica. Considerato il protrarsi della crisi e la necessità di mettere subito a disposizione dei lavoratori le risorse stanziate abbiamo accelerato le procedure necessarie per la pubblicazione del nuovo bando. Le risorse complessive ammontano a 7 milioni e 300 mila euro a valere su fondi regionali l'indenità compensativa per il mancato reddito e di 7 mila euro per ciascun beneficiario. Il bando è rivolto agli operatori lavoratori autonomi con o senza partita IVA ma anche organismi agenti e scuole professionistiche operanti in Sardegna. E a proposito di risorse c'è anche una denuncia della commissione regionale per le pari opportunità dice sempre appunto poche risorse nel recovery fund e questo è un argomento che abbiamo già trattato perché la commissione regionale punta appunto il dito contro il governo nonostante insomma le ripetute sollecitazioni. Vediamo Cinzia Isola. Sebbene al centro delle politiche europee l'Italia rischia di restare indietro ancora una volta e di non centrare gli obiettivi fissati per la realizzazione della parità di genere per fronteggiare e contrastarla sono state individuate solo il 2,3% delle risorse previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza di questi appena 400 milioni di euro sono destinati all'imprenditoria femminile risorse troppo limitate per la commissione regionale pari opportunità che ha espresso forte preoccupazione in relazione ai dati diffusi rispetto agli stanziamenti previsti dal recovery fund per il mondo femminile questo nonostante le ripetute sollecitazioni di tutte le organizzazioni femminili che hanno chiesto al governo interventi concreti e strutturali affinché si è ridefinito il piano l'Italia hanno sottolineato le consigliere di parità e ancora all'ultimo posto nell'Unione Europea per quanto riguarda l'occupazione femminile solo il 49% contro il 62% della media europea percentuali che fanno scivolare il nostro paese tra i più arretrati del vecchio continente l'indifferenza e la leggerezza con cui è trattato il tema all'interno del piano di ripresa e resilienza nazionale denunciano non è giustificabile la Sardegna spiegano le commissarie in quanto ad occupazione femminile non fa eccezione nel 2019 la percentuale di donne impegnate nel lavoro è del 47,3% e l'isola pur risultando tra le regioni più virtuose tra quelle del sud presenta ancora problemi strutturali di sistema il divario retributivo di genere ovvero la differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini il cosiddetto soffitto di cristallo ovvero la difficoltà delle donne a raggiungere avanzamenti di carriera o posizioni di comando a causa di discriminazione di tipo sessuale e ancora la scarsa attenzione riservata alle politiche di conciliazione che consentono alle donne di potersi dedicare alla famiglia senza dover rinunciare al diritto al lavoro senza contare ricordano le commissarie che le lavoratrici sono per la maggior parte dipendenti che raggiungono una stabilità lavorativa solo intorno ai 45 anni la pandemia ha peggiorato notevolmente la condizione sociale soprattutto a carico delle donne che ancora una volta pagano il prezzo più alto per tutte queste ragioni è necessaria un'azione diretta con fondi mirati a stimolare l'occupazione e l'imprenditoria femminile così da raggiungere gli obiettivi indicati nella strategia europea per la parità di genere adesso parliamo invece di spesa solidale anzi di spesa sospesa perché si allarga la rete nei mercati di Campania Amica del Sud Sardegna dove poter appunto fare la spesa contadina vediamo complice il particolare momento riparte con ancora più attenzione la spesa sospesa nei mercati di Campania Amica eh sì è ripartita l'abbiamo rafforzata purtroppo la stiamo rafforzando di settimana in settimana perché questa crisi si fa sentire sempre in maniera sempre più pesante e quindi una comunità come quella di Campania Amica non può restare indifferente attraverso una rete che vede coinvolti diverse associazioni caritevoli stiamo portando avanti questa iniziativa che si chiama la spesa sospesa che è mutuata poi dal dal caffè sospeso campano dove uno acquista un caffè e ne lascia uno pagato per il prossimo per chi arriva dopo e che magari non può permetterselo lo stesso facciamo qui le persone i nostri clienti che sono persone sensibili anche a quelli che sono gli aspetti sociali acquistano la spesa per casa e qualcosa la lasciano anche qui per le famiglie che purtroppo sono sempre di più hanno delle difficoltà economiche è vero che spesso la solidarietà o anche iniziative benefiche si manifestano nel silenzio però stante anche la scelta di rafforzare la spesa sospesa nei mercati appunto di campagna amica come sta andando questa iniziativa l'iniziativa sta andando sta andando bene stanno andando bene nei diversi mercati dobbiamo dire anche che ci sono da una parte delle associazioni che ci cercano perché hanno sempre più richieste ma dall'altra sono anche gli stessi clienti in diversi mercati che ci chiedono di attivare la spesa sospesa davvero c'è il cuore sardo è forte e si fa sentire perché lo stiamo facendo è un'iniziativa in tutta Italia lo stiamo facendo in tutta la regione qua in Sardegna e sta andando davvero molto bene stiamo appunto sul sociale perché al via la selezione per partecipare al servizio civile universale un'importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani sentiamo Maurizio Melis al via la selezione del servizio civile universale rivolto alle associazioni che operano in ambito sociale il progetto sotto la supervisione del dipartimento per le politiche giovanili e della presidenza del consiglio dei ministri e una scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondamentali della Repubblica italiana attraverso azioni per la comunità e il territorio il consorzio solidarietà dal 2002 si occupa della gestione di progetti di servizio civile che adesso è diventato universale il pronipote dell'obiezione di coscienza e che dà la possibilità ai ragazzi che vanno dai 18 ai 28 anni di fare un anno di volontariato a servizio della patria per la promozione dei nostri valori della nostra Repubblica il servizio civile rappresenta un'importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progetto culturale sociale ed economico del paese entri a contatto con situazioni che non tutti hanno la possibilità di vivere e vedere ti puoi mettere in gioco ti senti utile e soprattutto a me è servito per capire cosa volevo fare da grande circa il 20% dei ragazzi che hanno fatto il servizio civile con noi poi continuano a stare nelle cooperative che li hanno accolti quindi è anche una buona occasione per mettersi in gioco anche dal punto di vista professionale e lavorativo interessanti i progetti di solidarietà consorzio avendo un posto disponibili in tre progetti che accoglieranno i volontari in ambienti differenti per ulteriori informazioni e per scaricare il bando o consultare il sito www.consolidarietà.it i sardi emigrati all'estero raccontano la pandemia un progetto della Filef ci dice tutto Alessandra Dari i sardi nel mondo raccontano il covid attraverso un video diario della pandemia realizzato dall'associazione Filef la federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie della Sardegna il progetto si chiama TES acronimo di testimonianze emigrati sardis transnazionali ed è stato finanziato dalla regione Sardegna un filmato che contiene testimonianze di nostri corregionali che hanno deciso di vivere altrove dall'Australia agli Stati Uniti dall'Argentina all'Inghilterra emergono storie di vita che la pandemia in parte è stravolto paura incertezze e voglia di ritornare nella propria terra un desiderio che nel 2020 a molti è stato negato impedendogli di riabbracciare i propri cari un diario del mondo per lasciare una testimonianza per diffonderla in Sardegna e tra i circoli sardi nel mondo per farci sentire anche nelle difficoltà una comunità che affronta il problema ognuna a modo proprio in base ai provvedimenti degli stati alla conta delle vittime e alla voglia di ripartire ma con la consapevolezza che la condivisione delle preoccupazioni o delle buone prassi sia parte del racconto e del comune sentimento che non recide le radici con la Sardegna ma ancora una volta le rinnova e le rinvigorisce ha dichiarato Cristina Oggiano presidente della Filef Sardegna sono 13 le testimonianze che raccontano la pandemia uomini e donne di età compresa tra i 30 e i 70 anni un documento che adesso sarà visibile su Youtube nel canale dedicato della Filef Sardegna in questo momento sto facendo la fila in un supermarket sono qui a lavoro e sono spostato a fare la fila e questa è la situazione che c'è qua buongiorno sono Giovanna Signorini Falchi appartengo al circolo sardo di La Plata Antonio Segni sono Angela sono originaria di Cabras ma vivo a livello da 3 anni e mezzo dopo il blocco a causa del Covid riparte anche il campionato di calcio primavera e il Cagliari pronto ad incontrare a Bergamo l'Atalanta vediamo Maurizio Melis dopo la pausa forzata a causa della pandemia il campionato primavera uno riprende il suo percorso un blocco che ha creato qualche problema i progetti di mister Agostini dei suoi ragazzi che in ogni caso hanno continuato a lavorare con vigore e determinazione per non abbassare la concentrazione in attesa della ripresa sono un po' di giorni che stiamo finalmente lavorando in maniera costante e questo questo è quello che ci serve comunque per crescere è chiaro che è una situazione abbastanza difficile e delicata però ormai questo si sa e dobbiamo comportarci di conseguenza e cercare di fare il meglio possibile sfruttare ogni giorno e ogni allenamento sul campo per migliorare i giovani rosso-blu domenica alle 10.30 incontrinano a Bergamo i ragazzi dell'Atalanta una delle compagini più forti del campionato che nel tabellino di marcia ha tre punti in più dei sardi incontro difficile ma non proibitivo è un'ottima squadra ha un ottimo gioco e soprattutto ha ottime individualità per quello che ci riguarda noi dobbiamo andare a fare la nostra partita consapevoli della forza dell'avversario quindi consapevoli che va rispettato questo ma che va anche messo dentro tutto quello che noi possiamo mettere e da lì poi costruire un qualcosa che ci possa portare a raggiungere il nostro obiettivo che è quello di fare punti risale al 17 ottobre l'ultima partita disputata dalle promesse del Cagliari gara persa 6 a 0 contro la Fiorentina ma questo poco importa questa volta vincere sarà la normalità che finalmente è arrivata per un torneo che rimane sempre comunque avvincente e interessante allora in bocca al lupo ai ragazzi di mister Agostini era l'ultimo servizio per questa edizione ci vediamo più tardi grazie per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti